Ciao a tutti, oggi prepareremo gli spaghetti light. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono pomodori ciliegino, aglio, basilico, olio evo, pepe, sale, acqua e spaghetti. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i pomodori e li facciamo tritare per 3 secondi a velocità 5. Aggiungere l'olio, l'aglio, il sale, il basilico e lo spezzettiamo grossolanamente, il pepe. Ed azionare il bimbi per 25 minuti, 100 gradi, velocità soft. Aggiungere l'acqua ed azionare il bimbi per 7 minuti, 100 gradi, velocità soft. Dal foro del coperchio aggiungere gli spaghetti. Ed azionare il bimbi per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 9 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. E pian piano spingerli all'interno del boccale. e richiudere con il misurino. Gli spaghetti sono cotti, impiattare e servire. Spaghetti light. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie.